Jeep rinnova Cirocchi, uno dei suoi modelli più iconici, una consegna davvero speciale per l'elvetica quadro vehicle, Mercedes guarda all'elettrico con EQC. In casa Jeep arriva la nuova Cirocchi, perfetta per la città più che a suo agio, quando la si porta invece a fare un po' di sano fuoristrada grazie a tre sistemi di trazione integrale al bloccaggio del differenziale posteriore, presenta esterni e interni completamente rinnovati, è spinta da un motore multijet 2 da 2,2 litri da 150 o 195 cavalli al quale si aggiunge un benzina 2000 turbo da 270 cavalli di potenza, molta la tecnologia di sicurezza su cui il guidatore può contare, Jeep Cirocchi sarà disponibile da settembre negli allestimenti Longitude Business Limited e Overland con l'inarrestabile versione Trailhawk che completerà così la gamma il prossimo anno, inoltre potrà essere personalizzata con oltre 70 accessori firmati da Mopar, prezzi a partire da 43.000 euro. Consegna speciale per quadro veicola all'Auto World di Bruxelles, la casa degli scooter a quattro ruote infatti ha consegnato un cuder al principe del Belgio, è un nostro cliente entusiasta, abbiamo pensato di creare una personalizzazione apposta per lui per lanciare il prodotto, ha ribadito il CEO della compagnia, un veicolo sicuro ed affidabile grazie a quattro ruote su cui potere contare, per guidarlo basta la patente B per intenderci quella della macchina, dopo Italia, Francia e Spagna l'espansione dell'azienda svizzera continua inarrestabile, a ottobre torterà la Germania, a novembre invece l'Inghilterra. Bisognerà aspettare ancora poco meno di un anno per vedere il primo SUV crossover di Mercedes totalmente elettrico, si chiama EQC, sarà equipaggiato con due motori elettrici, uno posizionato sull'asse anteriore e uno al posteriore, avrà un'autonomia di oltre 450 km. Le linee sono allungate e slanciate, le forme fluide, nel frontale spicca la superficie black panel che integra i fari e la mascherina del radiatore. Di notte le luci di posizione creano una fascia orizzontale quasi continua, EQC anticipa un look decisamente all'avanguardia anche all'interno dell'abitacolo. La plancia porta strumenti è orientata verso il guidatore con il tipico profilo all'area simmetrico e tagliato nella zona della conducente, qui c'è una peculiarità estetica sulla plancia, un profilo lucido dove sono alloggiate le bocchette di ventilazioni piatte con lamelle color oro rosato a forma di chiave.